Salve a tutti, di Alessio Santoni, agronomo. Oggi parliamo di adempimenti per la commercializzazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sanza. Esiste un decreto, il decreto MIPAF del 23 dicembre 2013, e modificato col decreto ministeriale 4075 dell'8 luglio 2015, in cui viene disciplinato, in questi due decreti, viene disciplinato la commercializzazione dell'olio d'oliva e dell'olio di sanza. Tutti i produttori che producono olio superiore ai 200 kg di olio di campagna, cioè di produzione annuale superiore ai 200 kg, devono registrarsi al registro telematico del CIAN. Chi sono esentati? Sono esentati alcune categorie, come per esempio, chi utilizza l'olio per autoconsumo, olio a usi non alimentari, oli preconfezionati ed etichettati, e poi c'è un'altra categoria prevista dal Pararafo 6 del regolamento UE 29-2012. Allora, chi produce olio superiore ai 200 kg di olio per campagna di produzione, si deve registrare al registro telematico del CIAN. Si registra, carica la produzione annuale, e poi mensilmente o quando viene effettuata la vendita del prodotto, la vendita dell'olio, devono essere effettuati degli scarichi all'interno di questo portale. Quindi, tutti i produttori che non usano l'olio per l'autoconsumo e producono olio superiore ai 200 kg per campagna di produzione annuale, si devono regare prezzi che ha centri agricoli autorizzati per effettuare l'iscrizione al CIAN, se non ce l'hanno, e poi caricare la loro produzione annuale. Questo è un impegnamento importante perché i controlli verranno affidati dalla ripressione FRODI. Quindi, mi raccomando, chi produce olio superiore ai 200 kg e lo commercializza, si deve registrare al CIAN. Spero che questa informazione sia utile per tutti. Buon lavoro a tutti. Ciao!